L'arpa la suona lui, il piano lo suona lei e questo chiasmo di genere è già una cifra congenita in un ensemble affascinante. La giapponese Iromi e il colombiano Edmar Castagneda hanno saputo creare un'alchimia perfetta tra la rigorosa esuberanza dell'una e la delicata vigoria dell'altro. Testimonianza eloquente è il loro Live in Montreal pubblicato dall'etichetta Telark. La becca naturalmente insanabile del CD è il non poterli vedere, ma nel breve tempo di questo servizio ecco che si può assaggiare l'impatto scenico che i due sanno trasmettere nella loro dialettica musicale, sia affrontando le proprie composizioni, tra le quali abbiamo finora ascoltato Fire, della suite di Iromi intitolata The Elements. Ma pure nelle interpretazioni di lavori altrui, come il trascinante libertango di Astor Piazzolla. Un album insomma che può costituire un ottimo aperitivo in attesa di vederli dal vivo, auspicando quanto prima un loro ritorno in Italia.